Stefano Cetti è amministratore delegato di A5, sul territorio gestiscono anche una risorsa importante come l'acqua e oggi sono alla QST del Lago Ivrese, perché? Siamo presenti proprio perché gestiamo una risorsa fondamentale come l'acqua, una risorsa attraverso la quale l'ambiente riesce a migliorare, l'ambiente riesce a diventare più vivibile. Per noi è importante essere comunque presenti su un territorio come Varese, noi ci chiamiamo 5 perché operiamo su 5 territori dell'Alta Lombardia, operiamo con acqua e non solo, ma in questo caso una manifestazione come questa, un'iniziativa come questa che mira a riqualificare e ambientalmente sistemare una situazione abbastanza problematica ci vede a fianco di un'operazione come questa. Ecco, voi come società di riqualificazione ve l'intendete, l'esempio pratico nella città di Varese è il palazzetto. Assolutamente sì, su Varese abbiamo fatto questo intervento di riqualificazione di un impianto sportivo importante, si chiama Ice Arena, un impianto polifunzionale perché oggi come oggi questo tipo di impianti non possono più essere pensati solo per manifestazioni sportive. L'intervento vede un nostro ruolo fondamentale di capofila ma anche di partner energetici perché abbiamo messo in atto tutte quelle iniziative per rendere quell'edificio altamente efficiente, compatibile ed ecologicamente avanzato.